Ilari Blasi e Alfonso Signorini pronti per il GF VIP? L'annuncio, foto Grande Fratello VIP 2017, Ilari Blasi e Alfonso Signorini pronti per l'inizio. Ilari Blasi e Alfonso Signorini sono pronti per iniziare la loro nuova esperienza televisiva al Grande Fratello VIP 2. Ad annunciarlo è stato lo stesso opinionista pochi minuti fa, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto in cui ha ritratto insieme alla bionda conduttrice e a tutto lo staff del programma. Nella didascalia dell'immagine, Alfonso ha dichiarato che sono finalmente pronti per la partenza della trasmissione di Canale 5, e ha ricordato inoltre ai suoi fan che la prima puntata sarà rigorosamente in onda a partire da lunedì 11 settembre. La seconda edizione del programma vedrà la partecipazione dei fratelli Cecilia e Geremia Rodri con con accento acuto Guetz, Serena Grandi, Daniele Bossari, Simona Izzo, Marco Predolin, Carmen Di Pietro, Gianluca Impastato e Stefano Sala. All'interno della casa più spiata d'Italia dovrebbero entrarci anche la fidanzata di Andrea Damante Giulia Delelli se la ricca ereditiera Elettra Lamborghini, ma una loro misteriosa assenza ha lasciato perplessi i fan del programma. Le due prime donne non si sono infatti presentate al servizio fotografico della trasmissione, mostrandosi invece sui social intente a fare altro. Alfonso Signorini e Ilari Blasi prima del grande fratello Vip 2, le loro parole. Tuttavia, secondo fonti più che certe, sia Giulia che Elettra saranno a tutti gli effetti le nuove coinquiline del grande fratello Vip 2.017. Il programma condotto da Ilari Blasi sta comunque scaldando i motori e sarà di nuovo in diretta su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre. La bionda conduttrice Alfonso Signorini si sono infatti incontrati oggi agli studi romani per fare il punto della situazione a due settimane dall'inizio della trasmissione, ad annunciare ciò è stato lo stesso opinionista del reality, il quale ha pubblicato su Instagram una foto in cui è apparso sorridente e gioioso al fianco della sua compagna di viaggio. Tutto è pronto per la grande partenza, e il cast sembrerebbe ultimato, infatti, l'ultimo che deve comunicare la propria adesione è il cantante Cristiano Malgioglio, il quale per ragioni ancora non proprio chiare, sta ancora decidendo se partecipare al GF Vip o meno. Alcuni siti di gossip avevano affermato che Cristiano non volesse entrare all'interno della casa per non separarsi dal suo amato serpente, mentre altri avevano palesato la volontà del cantante di partecipare alla trasmissione per intascarsi i soldi utili a far fronte alle spese legali contro la pop star Mariah Carey. Malgioglio comunque spezzerà il silenzio in settimana, come ha lui stesso annunciato, attraverso un post sui suoi social. .